Gli altri siamo noi, gli altri siamo, possiamo, 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 noi Gli altri siamo noi, gli altri siamo, noi Gli altri siamo, possiamo, 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 noi Il nostro viaggio ora prosegue in via Solferino, nel cuore di Cremona, in pieno centro storico Andiamo a scoprire un negozio che nasce come store della Cremonese, Temporary Store E che ha l'obiettivo di far lavorare i ragazzi di Disability Andiamo insieme Gli altri siamo, gli altri siamo, gli altri siamo Mi chiamo Alessandro Corbari, sono il portavoce di Disability Disability è un progetto che nasce nell'ambito del progetto MEC Quindi un amico che nel 2009 ci ha lasciato E noi come compagnia delle griglie abbiamo deciso di onorare il suo ricordo Inventandoci e provando di inventare dei progetti benefici Disability Store nasce da un'intuizione di Giuseppe Conti Che è la famiglia Conti, è la famiglia titolare dell'azienda Saib di Caorso Giuseppe quest'estate mi ha chiamato e mi ha detto Corba io farei, rinnoverei la sponsorizzazione della Cremonese Però vorrei che una parte di quello che io darò alla Cremonese Venga dedicato a progetti inclusivi, progetti tipo quelli che seguite voi Allora lì abbiamo cominciato a pensare cosa fosse la formula giusta E devo dire che la Saiba e quindi la famiglia Conti rappresenta il massimo Che si può pensare in termini di responsabilità sociale Perché oltre alla donazione economica La famiglia ha messo a disposizione comunque personale Hanno sistemato il negozio E tutti i pannelli che vedete li hanno offerti loro Portati loro con i loro falegnami Quindi talvolta nel mondo del sociale si vede la donazione economica fino a se stessa E molte altre volte invece vedi anche il singolo gesto Di chi si toglie la giacca e va a attaccare uno stemma sopra un muro È chiaro che vedere questa grande progettualità inclusiva Associata ai colori della Cremonese Per me, persona fisica, quindi Alessandro È una gioia immensa Nella maggior parte di queste fotografie esposte Io ero presente da tifoso E sono ancora presente perché siamo appena rientrati Dalla trasferta di Pordenone Quindi questi colori sono i colori della nostra città I colori della nostra tradizione E quindi vederli legati ad un progetto così importante Per me, Alessandro Per Giuseppe, altro tifoso sfegatato È veramente il massimo Quindi io quando ho niente da fare Prendo la bici e passo di qua per venire a vedere se va tutto bene Per vedere come vanno i ragazzi Ma soprattutto per vedere come sta attecchendo questa congiunzione Di valori cremonesi, valori inclusivi Quindi è un mix che ci inorgoglisce molto Un'altra cosa che mi piace sottolineare È innanzitutto il coinvolgimento anche della Cremonese Con la quale stiamo pensando anche di iniziative Per valorizzare ulteriormente il negozio Magari con la presenza di giocatori Che nel corso dei quattro mesi si potrebbero alternare qui insieme a noi Ed è bella, è stata molto bella anche la risposta che ha dato il signor Acerbis Che il giorno dell'inaugurazione è venuto E si è anche commosso dicendo che in tutta la sua esperienza di squadre professionistiche Non ha mai visto qualcosa di così toccante Mi piace raccontare un altro fatto che mi è accaduto E peraltro non una volta Girando per la città ho ricevuto anche telefonate Di persone che mi dicono Perché c'è scritto Temporary Cioè nel senso che Perché questo negozio nasce e muore con un concetto di temporaneo E una persona addirittura al bar Prima di andare in trasferta a Brescia Mi ha detto Guarda noi non ci conosciamo Ma se hai bisogno di coprire un mese Puoi chiamarmi Mi emoziona questa cosa Perché pensare che la gente che non ti conosce È disposta a toccare il suo portafoglio Per pagarti un mese di costi Perché questi qua fondamentalmente sono dei costi È una cosa veramente molto emotivamente molto toccante Io sono Tempra Pasarini Questo mi chiono Le cose che io cremo Perché piace squadra E voglio lavorare tantissimo Qui piace Maglie Ciampe Cappello Tutto I pecchiare I mali I vepe I capelli I sapi Tutto Mi piace I vari miei terechini qua Per sempre Io sono Benedetta Anselmi Sono un pedagogista clinico E da quando è partito il progetto Disability Mi sono sempre occupata della riferenza tecnica Insieme all'equipe degli educatori Che sostengono i ragazzi nei vari progetti Il grande passaggio che stiamo osservando in questa opportunità dello store della Cremonese Che i ragazzi per la prima volta hanno un impegno continuativo su un lungo periodo Con una turnazione molto più strutturata e un impegno cadenzato Con un ruolo e una veste che adottano continuativamente E stanno imparando anche delle competenze nuove Li stiamo osservando in un ambito molto diverso dalla ristorazione del catering Stiamo osservando le loro competenze Li stiamo formando ad averne ancora di più Questa è sicuramente la grande novità Anche il fatto che loro hanno scelto un impegno così importante Perché ha una strutturazione dal lunedì al sabato Con un'apertura sulle domeniche per tutto il periodo di novembre e dicembre Quindi sicuramente per loro è una scelta consapevole Ma molto significativa Perché non è da tutti dare una disponibilità così sul lungo periodo E questa è la grande novità che questo store ci ha permesso di realizzare Dal punto di vista tecnico Con anche l'apertura a una gestione con volontari Che sono costanti, continuativi e stanno anche aumentando di numero E questo è un'integrazione tra risorse e competenze Che è anche un valore aggiunto di questo progetto Che si basa sicuramente con persone come i commessi Che hanno delle abilità Gli educatori che mediano ma i volontari ci danno un dono prezioso Perché ci aiutano nella gestione quotidiana Perché sicuramente questo è un progetto che in modo continuativo è davvero impegnativo Dopo lo stop del Covid che è arrivato in un momento di massima esplosione del progetto Disability Avevamo davvero tantissime cose da realizzare Questa opportunità è diventata la possibilità anche su un tempo continuativo Di poter mantenere il contatto con le persone Che era un po' l'aspetto che ai ragazzi piaceva molto del progetto Disability E che purtroppo è venuto a mancare in quel periodo molto lungo per loro E anche sofferto Hanno avuto la possibilità di ritornare a fare delle esperienze Lo storia è un punto di incontro È un punto di contatto con gli altri E sicuramente questo è un aspetto che a loro piace molto Poter interagire con il pubblico, con le persone Che scelgono di venire qui dove ci sono anche loro E questo è un aspetto che li sta rendendo molto contenti Di poter essere al servizio della quotidianità Mi chiamo Paola Minardi Ho 47 anni E mercoledì l'altro avevo cominciato a fare il nuovo tirocinio In un negozio temporale shop Mi piace molto come lavoro che non ho mai fatto È un'esperienza nuova che mi tiene impegnata E posso fare tante cose Sono Cristian Perego Sono educatore della cooperativa Ventaglio Blu E gestisco un po' la programmazione dei turni dei ragazzi di disability Disability è un progetto che è nato nel 2018 E da subito ho avuto la possibilità e l'occasione di poterne fare parte come educatore Siamo partiti come attività di aiuto nel catering Nel servizio in locali ed enti della città di Cremona E siamo arrivati ad oggi a poter avere un negozio nostro In cui i ragazzi a turno servono i clienti che vengono ad acquistare prodotti a marchio cremonese E diciamo che questo progetto sta dando possibilità a loro di sperimentarsi sempre di più su un discorso di autonomia Nel servire il cliente, nel collaborare tra loro, nel scegliere come gratificare di più il cliente in quello che vuole acquistare Dando consigli, dando direttive anche sulla base dei loro gusti e sulla base dei gusti della persona che entra nel nostro negozio Questo progetto sta avendo molto successo dal punto di vista personale, umano e di gratificazione dei nostri ragazzi Perché ogni volta che entrano qui sono molto felici di poter far parte di questo progetto E di poterlo far crescere con il loro contributo I ragazzi sono circa una ventina e a loro volta si ruotano, si organizzano per essere qua sempre in modo più autonomo E diciamo che per loro è una gioia incredibile E' stato necessario trovare decine di volontari, forse anche centinaia Per lanciare la campagna vaccinale anti-covid-19 in fiera prima e successivamente nel centro di Sapiens a Costa Sant'Abramo Sono tanti volontari, sono tutti volontari di Siamo Noi e sono loro che andiamo adesso a conoscere Per vedere e per capire il perché di questo loro intervento Sono Claudio Bodini, presidente dell'associazione Siamo Noi Siamo al vaccinale Sapiens alle porte di Cremona Qui ogni giorno ci sono circa 800 persone che vengono a farsi vaccinare E ci siamo trasferiti a metà settembre dopo aver avuto una bellissima esperienza All'avvaccinale fieristico dall'8 di marzo fino appunto a metà settembre La nostra associazione è stata chiamata in quel momento dal direttore sanitario Dottor Canino A dare una mano a quello che era una necessità impellente Avevamo bisogno di vaccinare tutta la popolazione Era una grande sfida sia per gli operatori sanitari che per tutta la cittadinanza E qui i volontari della nostra associazione hanno giocato un ruolo molto importante Pensate che per riuscire a reggere l'impatto di tutta questa gente che veniva a farsi vaccinare Abbiamo dovuto reclutare più di 600 volontari È stata una bellissima risposta, emozionante per me Di tutta la cittadinanza cremonese che è venuta a dare il proprio contributo Il proprio aiuto alla situazione che si era venuta a creare La nostra associazione era presente 8 ore al giorno Con circa 60 volontari al giorno E qui è stato molto impegnativo perché abbiamo dovuto sopperire a delle situazioni veramente difficili Di flusso di persone Ci sono stati dei momenti dove c'erano 3000 persone da vaccinare al giorno E lì abbiamo fatto anche le ore piccole Però è stato veramente piacevole La cosa più bella è stato lo sguardo delle persone anziane Il sorriso delle persone anziane sotto la mascherina Facilmente riconoscibile Che erano spaventate Perché fare un vaccino un po' sconosciuto Era una cosa difficile da capire e da accettare Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di dare una mano a questa situazione Con una parola in più Con una mano sotto il braccio Accompagnarli a fare il vaccino A tranquillizzarli e a rassicurarli Noi ci siamo trovati di fronte a dei volontari che non avevano mai fatto volontariato E soprattutto non l'avevamo nessuno mai fatto in questa situazione Allora abbiamo dovuto escogitare una soluzione Che è stata quella di formare delle persone I vecchi volontari che ci hanno seguito in pronto soccorso Alla funzione di tutor Ovvero di coordinatori dei volontari di turno Abbiamo proprio formato queste persone Circa una ventina inizialmente Che andavano a coordinare l'attività di tutti questi nuovi volontari Diciamo temporanei E questa è stata una figura molto importante Perché è quella che si è interfacciata con l'istituzione Con la SST E per qualsiasi evenienza andava a risolvere i problemi E quindi a dislocare i volontari nei punti dove più necessitava Ecco lì la figura del tutor Ogni turno è stata molto molto preziosa Ricordo due momenti particolari di questa esperienza Che mi rimangono nel cuore Il primo è stata la messa All'Hub fieristico che abbiamo voluto organizzare Alla fine del periodo in cui siamo stati in fiera È stato un momento molto emozionante Erano presenti circa 400 volontari Tutti in giubbino giallo Erano presenti tutte le autorità cittadine E il Vescovo, su eccellenza il Vescovo Ha celebrato questa messa Ma io penso che tutti coloro che erano in quel Lab Hanno sentito l'empatia e l'emozione Delle persone che assistevano a questa celebrazione È stato veramente un bellissimo momento Tra l'altro poi il sindaco con tutte le autorità comunali Hanno premiato tutte le associazioni È stato veramente un momento Effettivamente molto emozionante Un altro momento per la nostra associazione È stata la festa d'estate Che abbiamo voluto fare alla Cascina Cambonino Grazie al Comune che ci aveva concesso questo spazio Dove abbiamo premiato, voluto premiare Tutti coloro che ci avevano dato una mano in quel periodo E anche lì è stato un momento di grande festa E di leggerezza dopo tanto, tanto lavoro Mi chiamo Benedetta Basola Ho 25 anni e ho iniziato a fare volontariato presso Lab Vaccinale Da quando è stata richiesta il supporto di tutti i cittadini E ho deciso di partecipare a questo volontariato Perché dopo mesi in cui abbiamo subito senza poter reagire Se non restando in casa il Covid Quando ci è stata data l'opportunità di metterci in campo in prima persona Per poter velocizzare il più possibile il ritorno alla normalità Ho deciso di partecipare subito E infatti mi sono subito iscritta ai primi turni disponibili Per poter venire al Lab E così ho fatto per tutti i mesi in cui è stato possibile E ancora adesso Mi chiedono sempre se c'è qualcosa che mi ha colpito Facendo volontariato al Lab Vaccinale E rispondo sempre che non ho un episodio specifico Ma ho il ricordo degli occhi Che è l'unica cosa che si può vedere con la mascherina Occhi spaventati, confusi, sia giovani che anziani Quindi si è venuti a contatto con la fragilità Fragilità ma anche forza Perché nonostante questa paura e questo timore Le persone sono venute al Lab Si sono fatte vaccinare E quindi hanno fatto un salto In un qualcosa di sconosciuto che non si sapeva E quindi sono stati coraggiosi E hanno fatto secondo me la loro parte Per poter uscire da questa pandemia Una prima arma per potersi difendere Ed è una cosa che mi ha molto emozionato Perché è stata una risposta veramente collettiva Sia a livello di volontari che a livello di cittadinanza Di fronte a un momento di crisi In cui bisogna darsi una mano Anche noi giovani che forse abbiamo anche un po' più forze Dobbiamo aiutare e sostenere tutta la comunità Le persone comunque erano spaventate E cercavano in noi una sicurezza E noi stessi eravamo anche noi comunque insicuri e spaventati Quindi è stato difficile È stato dal punto di vista umano Molto impegnativo e importante Mi chiamo Antonella Laiolo Sono la responsabile dell'unità operativa vaccinazioni Della SST di Cremona In questo momento siamo nel lab vaccinale Sapiens Di Costa Sant'Abramo È un anno che è iniziata con noi Una preziosa collaborazione con i volontari Sia dell'associazione Siamo Noi Sia di Hauser e di altre associazioni di volontariato Che ci danno un grosso supporto In quello che è lo svolgimento dell'attività E senza le quali figure avremmo fatto molta più fatica A fare quello che abbiamo fatto E probabilmente non saremmo neanche riusciti A fare tutto quello che è stato possibile fare Ringrazio tutta l'associazione che ci stanno aiutando L'associazione Siamo Noi Speriamo che prosegua con noi questo percorso Ci sta aiutando sia qua in hub E dicevo però il rapporto di collaborazione è iniziato un anno fa Anche se l'attività in hub è iniziata a gennaio Con la campagna Covid prima in ospedale e poi in hub Ma il rapporto di collaborazione è iniziato un anno fa Perché ci avevano già aiutato nella campagna anti-influenzale precedente Che si è svolta sul territorio in via San Sebastiano E anche allora è stato un supporto fondamentale Perché comunque i flussi sono importanti Ci sono tante persone che si spostano, si muovono E hanno bisogno di indicazioni E noi ci valiamo di questo importante aiuto e supporto Nel gestire il flusso e nell'aiutare la popolazione A spostarsi all'interno della struttura E nei circuiti del percorso che vengono impostati Per evitare l'assembramento Per disciplinare bene il movimento di tutti i soggetti La situazione si è riconfigurata più volte All'inizio siamo partiti in ospedale Il 4 gennaio In un reparto Perché era la prima possibilità che avevamo E già lì se non ci fosse stato l'aiuto Di una figura non sanitaria che ci aiutava A gestire il tutto Sarebbe stato un po' problematico Perché comunque non era il posto Diciamo più adatto per lo svolgimento Di una situazione del genere Ciò nonostante è andato tutto liscio Appunto anche grazie alla loro collaborazione Perché comunque il personale sanitario era dedicato Allo svolgimento delle azioni in ambito sanitario E tutto il resto andava comunque orchestrato e gestito Poi dopo spostandoci in fiera E adesso qua Si sono create situazioni via via diverse Là perché era molto grande Qui perché è un po' più piccolo Per un motivo o per l'altro Era comunque importante Che ci fosse una figura di supporto al sanitario Che aiutasse il sanitario a svolgere la sua funzione Premio Bontali di abitanti Sono quasi 45 anni di storia Per questo premio tradizionale Che viene assegnato al comune di Cremona Andiamo a vedere a chi è stato consegnato in questa edizione Il premio nasce di qualche anno dopo la morte di lì di abitanti Che venne nel 1966 E per un desiderio che lei espresse prima di morire Proprio fu un desiderio verbale Ecco non c'è un documento scritto Il desiderio che noi parte dei suoi beni Li adoperassimo per fare qualcosa a favore dei minori, dei giovani E la famiglia, le famiglie Perché all'epoca della morte della zia Existeva ancora la sua mamma, i due fratelli E io come nipote e mia sorella Che ho perso qualche anno fa Quindi tutti assieme concordammo E arriviamo alla decisione di questo premio di bontà Siamo in una bellissima sala del comune di Cremona E questa sala è quella che tutti gli anni accoglie Questo premio meraviglioso di bontà È un premio che la famiglia Abitanti Della quale io così faccio parte Perché la Lidia Abitanti era mia zia Assegna tutti gli anni a dei bambini A dei ragazzi che si sono distinti nati di bontà Quest'anno abbiamo due casi molto belli Questo ragazzo che ha lavorato per tanti anni per Lega Ambiente E solidarietà vuol dire anche dedicarsi all'ambiente Perché l'ambiente è la nostra casa E quindi avere cura del nostro ambiente è una cosa molto importante L'altra associazione è una associazione che si chiama Music Angels Che raccoglie dei ragazzi E li impegna quotidianamente in attività di danza, di animazione Anche questa è un esempio per tutti Abbiamo voluto premiare questa associazione Proprio perché si dedica specificatamente ai ragazzi Sono bellissimi esempi per la nostra gioventù E per la nostra città che ha un cuore grande L'associazione è nata il 27 marzo del 2018 E' nata con l'intento di creare degli spazi Di aggregazione e di socializzazione per i giovani Insegniamo danza Siamo diciamo più che altro un gruppo libero di ballo Non mi ritengo una scuola Non mi ritengo di insegnare danza a livello agonistico Music Angels Momentaneamente ne approfitto per ringraziare La parrocchia di San Michele Siamo ospiti presso la parrocchia Da un anno e mezzo In quanto siamo in cerca di una sede nostra Personale dove poter continuare il nostro cammino insieme Sarebbe veramente un bellissimo regalo di Natale Che il comune ci sta aiutando A trovare questa sistemazione Perché vivere questa instabilità al momento È un attimino un po' un disagio per tutti quanti Per il lavoro che stiamo svolgendo Sono Giulio Ferrari e sono qua per ricevere il premio Bittanti Sono stato segnalato da Lega Ambiente Cremona Per l'impegno che in questi anni ho messo a favore della città Nei temi della sostenibilità E nel diffondere delle buone pratiche per la cura dei beni comuni Sono molto felice Un premio inaspettato Mai mi sarei appunto aspettato che mi avessero segnalato Mi fa molto piacere Anche perché dare fiducia non è mai una cosa scontata E ricevere tanta fiducia Soprattutto a me che sono un ragazzo di 20 anni Non è appunto una cosa banale E questo mi fa ancora più piacere Si conclude così un'altra puntata degli altri Siamo noi Ma naturalmente mercoledì prossimo Sempre alle 20.30 ci sarà un altro appuntamento Siamo stati nella sede del centro dislessia Della sede cremonese del centro italiano dislessia E poi siamo stati insieme ad Andrea Colla Alla CSV per parlare del futuro del terzo settore Questo e molto altro Nella prossima puntata degli altri siamo noi non mancate La preziamo noi 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 Grazie a tutti